la prima cosa che ha fatto mia moglie quando ha iniziato a defustellare tutto quanto prima ancora di andare a costruire le miniature è andata a comporre gli scenari perché ovviamente lo scenario è il lavoro più grande che c'è all'interno di un gioco come questo qui sono anche scenari per la maggior parte fatti di plastica plastica dura quindi c'è anche tanto da defustellare e incollare ma soprattutto occhio perché la guida che c'è dentro ha diversi errori quindi vi lasciamo un link in descrizione per vedere una videoguida che vi fa vedere per bene come montarli perché ragazzi soprattutto la testa come ve la fa vedere qui nel manuale come montarla è sbagliata non c'ha attacco giusto e si rischia veramente di rovinare il pezzo quindi occhio perché un punto a sfavore del manuale della gv alcuni pochi non tutti però alcuni pezzi soprattutto quelli più grossi la testa ti fa vedere una guida di come montarli sbagliata completamente e ci andrete a impazzire la deve mettere così per farla un pochino vedere meglio comunque questa è la bell tower è la parte secondo me più iconica anche la testa di sigma però questa ancora più bella e anche qui ci ha fatto un lavoro disumano ci ha messo il primer ci ha messo ovviamente tutti quanti gli effetti sopra ci ha messo il wash ci ha messo i vari punti luce e questo è stato il primo lavoro che ha fatto e anche questo gli ha portato via tranquillamente un paio di giorni insomma è un pezzo bello grosso e importante l'unica parte occhio quei morti lì attaccati lì in tortura si scollano che è una bellezza quindi stateci attenti ci sono due dettagli ovviamente da ammettere che si muovono questi non li incollate assolutamente che sono la scala per salire e questa scala qui questa rampa qui principale questa è la testa del dio sigma che è molto molto bella poi vedete come l'ha colorato nello stile tutta quanta spaccata molto colore della roccia con sopra questa piattaforma con tutti gli spunzoni mentre il pezzo si sta cavolendo quindi lo potete mettere a mo' di cancellino un po' di barricate anche qui che ce n'è veramente tante e questi qui sono i classici elementi scenici che ti servono un po' per bloccare la vista per doverle aggirare anche perché le regole di gioco dicono che un elemento scenico può essere passato senza bloccarti il movimento quindi non aggirato e senza bloccarti la vista se è più basso di anzi se è entro un pollice di altezza quindi tutti questi vanno aggirati e poi questa qui è una sezione di muro ovviamente sembra un vecchio monastero insomma una specie di cattedrale tutta quanta distrutta e deroccata e anche questa vedete la colorata col primer colore della roccia della pietra soprattutto ci ha fatto le corone delle statue lì davanti le rune la fate tutte quante dorate e poi anche qui ovviamente punti luce wash e quant'altro ora poi vi facciamo vedere da lontano il setup ovviamente casuale che abbiamo fatto della della mappa di gioco appunto per uno scopo puramente dimostrativo di come funzionano le regole comunque questi sono i quattro mazzi che dovete usare in tutte le modalità sia le modalità campagna che la modalità anche gioco libero che è quella che vi andiamo a elencare oggi qui ci sono gli scenari quindi mescolate questi mazzi tra l'altro bellino ognuno di loro ha una scatolina per trasportarli queste sono piccolezze ma si vede che sono veramente professionalissime alla gv e questo qui li mescolate e ne girate una la prima sopra sarà come andrà disposto il campo di battaglia non è quello che vedrete in questo video vi ripeto l'abbiamo fatto casuale però qui vi fa vedere come vanno distribuite tutte quante le strutture e pezze che ci sono dentro il secondo qui col teschio invece girando sono le varie zone di schieramento che sono divise fra zone di schieramento rossi e blu il giocatore che vincerà l'iniziativa che all'inizio nel primo turno è semplicemente un tiro di dado chi fa risultato più alto ha vinto l'iniziativa uno spareggio deciderà se essere quello blu o quello rosso in questo caso qui vedete quello rosso parte in quest'angolo qui quello blu parte in quest'angolo qua giù e vi fa vedere anche le distanze dei bordi in cui potete schierare i vostri personaggi le vostre bande sia chiaro le bande al inizio vanno divise per tre simboli che sono la spada il martello e lo scudo e vedete qua giù accanto se nella nella zona di schieramento c'è scritto round 2 e c'è sopra un simbolino vuol dire che la truppa tanto ve lo faccio vedere dopo che avrete scelto con il simbolo della spada entrerà in campo in questa zona qui che avete scelto da round 2 questo mazzo qui con le frecce è il mazzo degli imprevisti quindi per aggiungere un po di casualità all'avventura imprevisti che potrebbero essere un terremoto imprevisti che potrebbero essere un crollo o tantissime altre cose ricordatevi siete nelle terre del caos quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa e oltretutto anche bestie quindi tutte quante le bestie che troverete nel gioco che ora vi faccio vedere che sono contro qualsiasi banda quindi non sono sono guidate dai giocatori ma non fanno parte della vostra banda sempre negli imprevisti e qua giù le condizioni di vittoria quindi le condizioni di vittoria per ciascuna banda per vedere chi avrà vinto la partita potrebbe essere un obiettivo semplicemente ammazzatevi tutti o potrebbe essere invece un obiettivo di andare a prendere qualcosa in mezzo al campo di battaglia il primo che lo prende la porta nella sua fase di schieramento ha vinto quindi queste quattro carte vi ricordo sono per fare il setup iniziale le due bande principali dentro il gioco sono gli untamed beast e gli iron golem e vedete una carta per farvi vedere una che questo qui è il capo degli untamed beast in alta destra il punteggio la runa qua giù che rappresenta il simbolo della fazione le caratteristiche che sono il movimento quindi di quanti unità imperiali di quanti pollici si muove la resistenza il suo valore di resistenza e le ferite che ha qua giù poi vedete un simbolo qua giù che rappresenta la sua abilità che ve le faccio vedere successivamente col simbolo che c'è qua sopra e qui vedete le armi o l'arma che usa lui ne ha solo una però ci sono alcune truppe che ne hanno due comunque sono alla distanza sempre in unità imperiali a cui tira il numero di dadi per l'attacco la forza del colpo e le ferite che può fare divise sempre da una barra vedete qua giù perché quelle a sinistra sono le ferite che fa normalmente quell'altra invece sono le ferite critiche ci sono altre truppe come ad esempio lui che di armi ce ne hanno due scegliete voi quali utilizzare potete utilizzarle tranquillamente tutte e due anche perché ciascun personaggio ciascuna truppa ha due azioni che possono essere anche due volte la stessa questa ad esempio sono le schede degli iron golem questo è sempre il boss e queste sono le schede dei mostri mostri che verranno mossi da mezzo intelligenza artificiale e mezzo ovviamente dai giocatori però non fanno parte di nessuna banda e poi la carta di una banda ad esempio qui degli iron golem che vi fa vedere come può essere formata una banda quindi da che modelli può essere formata e dietro vi fa vedere tutte quante le abilità di quella banda perché sia chiaro le abilità potete usare sia quelle della vostra banda che quelle pubbliche alla portata di tutti che sono quattro non ve le sto a descrivere ma tanto le potete vedere nel manuale in più quelle che ci sono segnate qui cosa vuol dire questo che se io ho un personaggio tipo questo qua degli iron golem lui vedete simbolo degli iron golem simbolo degli iron golem in più ha anche questo simbolo qui con un teschio che se andate a cercare nell'abilità è questo qui cosa vuol dire che lui può usarne può usare una di queste abilità che abbia o tutte e due simboli o ne abbia uno che deve essere per forza se nel caso è solo quello della fazione quindi questa abilità la può usare perché vedete non ha altri requisiti ha soltanto quello di fazione però non potrà usare tutte le altre potrà usare soltanto questa abilità qui perché ha sia il simbolo della fazione che il teschio che ha lui sulla scheda e vedete accanto a ciascuna abilità c'è sempre segnato tipo doppio 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 triplo questo vuol dire che per poterlo utilizzare dovrete avere appunto o un doppio o un triplo come ora vi faccio vedere all'inizio del turno ciascuna banda tira i suoi sei dadi facciamo conto che questi sono degli untamed beast sei sono sempre sei questi sei qui sono quelli degli iron golem e poi in più ci sono i dadi rossi che sono i dadi destino o comunque dadi bonus che vi faccio vedere ora a breve quando all'inizio vengono tirati questi dadi facciamo conto che si tira il giocatore degli untamed beast e li tira per vedere i risultati che vengono fuori dove c'è il simbolino col teschio è sempre un critico è un sei ora per quello che c'è uscito voi dovete mettere i singoli da una parte e quelli con lo stesso simbolo a coppie per come sono usciti quindi è uscito un singolo che è un sei un triplo di uno e un doppio di cinque in più per ciascun turno potete tirare anche per ogni turno un dado bonus che è quello rosso il dado bonus nel caso in un turno non lo utilizzate nel turno successivo ne potete utilizzare due nel caso per due turni non li abbiate utilizzati nel terzo ne potrete utilizzare tre quindi quello comunque segnatevelo a parte ora questi sono i dadi che sono usciti l'iniziativa è data dai dadi singoli quindi per decidere chi ha l'iniziativa in quel turno si va a vedere il giocatore e la banda che ha fatto più singoli vi ricordate poco fa vi ho fatto vedere nelle abilità si parlava di doppi e di tripli ad esempio in quell'abilità lì di quel personaggio degli iron golem per usare ariete d'assedio ci chiedeva appunto un triplo noi un triplo lo abbiamo perché eccolo qua se no avremmo avuto un doppio e quell'abilità non poteva essere utilizzata questi dadi ci danno facoltà durante il turno di poter usare le abilità appunto di quel personaggio lì di quella truppa ora questi sono i risultati che abbiamo visto e che a breve vi farò vedere come funziona sul campo di battaglia poi il giocatore degli iron golem va a tirare i suoi e questi sono quelli che li sono usciti quindi è uscito un doppio 4 che vedete qui un doppio 2 che è uscito qui e poi due singoli quindi vi ho detto siccome i singoli all'inizio della partita danno e per tutti i turni che poi verranno danno l'iniziativa a questo punto l'iniziativa ce l'ha il giocatore degli iron golem perché ha due singoli mentre quell'altro ne ha soltanto uno entrano i dadi bonus ve l'ho detto ne potete usare uno a turno nel caso uno dei due non li usi nel turno dopo ne potrà usare due ora come si usano i dadi bonus possono essere usati in due modi uno per farlo diventare un singolo quindi non lo state nemmeno a girare su un valore mettetelo a punta e basta e dite va bene questo qui è diventato un singolo se no lo trasformate in uno di quelli che già avete quindi questo 4 se ci metto un altro 4 lo faccio diventare un triplo questo 2 se ci metto un altro 2 lo faccio diventare a sua volta un triplo però stessa cosa potrebbe fare il giocatore di qua degli untamed beast potrebbe dire sai che c'è il giocatore questo lo ha voluto mettere per avere un triplo e usare un'abilità e io lo metto per avere un altro singolo quindi ho due singoli come ha due singoli lui quindi ora chi ce l'ha l'iniziativa all'inizio del turno si prende un dado da 6 si tira che fa risultato più arte ha vinto lo spareggio tenendo sempre questi dadi che avete visto prima questi dadi verranno utilizzati per le abilità sia chiaro una cosa se un'abilità vi costa un doppio ci potete spendere un doppio ma se un'abilità vi costa un doppio ci potete spendere anche un triplo basta che sia sempre superiore con un quadruplo potete attivare un triplo con un quadruplo potete attivare ad esempio un doppio basta che sia sempre superiore ovviamente con un triplo non potete attivare un quadruplo questo è il misuratore in gioco io lo chiamo le vecchie unità imperiali perché sono troppo fissato veramente legato a warhammer fantasy nel vecchio mondo in pollici e le miniature che ragazzi premetto subito non le abbiamo dipinte anche perché lì ci ha voluto due settimane per fare lo scenario e non vediamo l'ora di dipingerle però appunto facendoci di video se vedete la cosa bianca ai piedi ragazzi è patafix non le abbiamo incollate perché ovviamente prima le vuole dipingere perché mia moglie fa dei piccoli diorama anche sulle basette quindi questo qui è il capo degli untimed beast per farvelo vedere questo qua giù guardate bello è il capo incazzato nero degli iron golem ora mettendo un pochino di pedine anche per farvi vedere come funzionano ad esempio un altro iron golem e un altro untimed beast che sono qualcosa di stupendo in più ci sono queste bestie a parte anche questo ragazzi piegato male perché c'è il patafix dovrebbe stare un pochino più in piedi è un proler un leone da battaglia di loro degli untimed beast che questa è proprio una creatura guidata da loro è spettacolare e poi nel gioco ci sono anche le bestie tipo questi qua che sono quelle che possono venire fuori con le carte imprevisti queste sono bestie che vengono entrano in campo solo se viene sancita all'inizio dalla carta come vi ho detto degli imprevisti le regole di gioco sono semplicissime si va a prendere la carta di quella truppa che si vuole muovere ricordatevi sempre che le truppe entrano in campo come vi ho detto all'inizio quando ve lo dice la carta dello schieramento se questa qui è l'unità scudo o l'unità martello l'unità spada e le regole vi dicono che entreranno dal secondo round ovviamente lui non può essere in campo comunque quando si vanno a muovere si prende sempre la carta di quella truppa lì che in questo caso è lui ed ha 5 di movimento quindi si va sempre a misurare dalla punta della base non da metà dalla punta della pedina si va a misurare dove arriva col movimento se passate sopra a uno scenario deve essere più basso vedete di un pollice se è più basso di un pollice lo potete scavalcare se è uguale o superiore lo dovete aggirare quindi in questo caso qui non è un ostacolo e mi potrei avvicinare quando fate un movimento ricordatevi sempre che il movimento lo potete fare come volete quindi lui il movimento che ha di 5 potrebbe dire ok io mi muovo dei primi due così fino al muro e poi mi rimane 3 di movimento scavalco perché si può anche scavalcare la meglio ci dovrebbero essere delle scale perché è difficile che qualcuno riesca a scavalcare una cosa del genere però ammettiamo magari che o è un muro più basso è tutto o ci sono delle scale si va anche a misurare in altezza vedete 3 e a questo punto lui è riuscito a salire ed andare sopra ovviamente sarebbe meglio metterci delle scale o delle cose del genere come nella bell tower comunque questa qui è un'azione stessa cosa quando si deve muovere non c'è da fare nessun tiro particolare voi dovete semplicemente misurare nel caso volesse scendere e fare un salto dovete misurare la distanza a cui volete che faccia il salto e poi dovete anche misurare la distanza in altezza solo per vedere se prenderà danni perché quando una figura scende o viene spinta giù da un critico o da un muro e finisce a livello del terreno almeno 3 pollici sotto dovete fare un tiro di dado in questo tiro di dado se fate da 1 a 4 subisce una ferita se fate 5 o 6 subisce 3 ferite e le ferite in gioco sono questi segnalini qui che praticamente li potete mettere direttamente accanto alla carta del personaggio della truppa che avete utilizzato poi ci sono questi segnalini qui che invece sono obiettivi che vi potrebbe dare alla mappa e cose del genere e quest'altro qua che invece vi fa presente quando una truppa è in attesa perché potete metterla anche in attesa per vedere cosa fanno gli avversari prima di muoverla o quando ha finito le sue azioni perché una volta che una truppa ha finito le sue due azioni non può più fare nient'altro fino al turno successivo alla Warhammer faccio vedere i due boss che si picchiano quando arrivate in corpo a corpo con un'altra miniatura dovete andare a vedere le carte e la carta qui sposto un pochino di cose così spero si veda un po' meglio li metto un pochino più su del capo degli untamed beast ci fa presente che attacca uno di distanza ci siamo, ci siamo un corpo a corpo quindi a voglia si può attaccare tira quattro dadi quindi andiamo a tirare i dadi rossi perché ricordatevi quelli che avete qua giù non li dovete tirare non li muovete perché sono le cose che vi servono per attivare le abilità si può fare due azioni nel caso ho fatto un movimento mi rimane un attacco nel caso dal turno prima fossimo già in corpo a corpo invece potrò fare due attacchi e per ogni attacco devo tirare il valore che c'è scritto qui quindi nel caso quattro dadi e il mio colpo a forza quattro vedete l'arma a forza quattro la resistenza invece del capo degli iron golem è di quattro dovete sempre vedere il valore qui dell'attacco lui ad esempio è più forte c'ha forza cinque e il valore di difesa quindi come ci insegna Warhammer quando i due valori sono uguali attacco quattro resistenza quattro colpita al quattro più però se fosse stato lui ad attaccare il capo degli untimed beast che ha resistenza quattro cinque è più alto di uno quindi avrebbe colpita col tre o più quindi se l'attacco è più alto tre o più se è uguale quattro più se invece la resistenza è più alta per colpire dovrebbe fare cinque o più tutti i risultati fino a cinque sono un colpo normale tutti i risultati che invece vanno a fare un critico che è il teschi un sei attivi la ferita critica quindi nel caso fossero entrate di fortuna quattro ferite al capo degli untimed beast tutti e quattro i dadi sono riusciti a fare quattro più ha avuto un culo bestiale quindi sono entrati tutti i colpi mettiamo tre colpi sono normali e uno critici quindi tre colpi normali fanno due, quattro, sei ferite che è il primo valore e quello critico ne fa cinque quindi in tutte le avrebbe fatto undici ferite vedete che lui ce n'ha 20 quindi prendete le ferite e le mettete sulla scheda fino a che oppure potete mettere anche semplicemente quelle che gli rimangono e fate direttamente prima come volete voi comunque andate a scalare le ferite che ha subito dal valore di ferite che ha qua giù in fondo quando una truppa arriva a zero ferite è rimossa dal campo di battaglia le abilità che potete andare ad usare che sono le abilità della fazione che sono queste qui che vi ho fatto vedere precedentemente le potete attivare a patto una per ogni personaggio a patto che abbiate i dadi queste qui che vi ho fatto vedere perché se voi volete andare ad attivare un'abilità che vi richiede un triplo dovete avere un triplo anche se ci avete un quadruplo come detto superiore va bene ed è gratis non conta come azione quindi se voi andate ad attaccare un altro eroe e magari avete fatto movimento e attacco avreste finito le vostre azioni no potete ancora fargli usare l'abilità a patto che lui abbia i dadi se non ha i dadi per utilizzare queste cose qui ovviamente a parte i suoi attacchi, l'iniziativa e tutto quanto non potrà fare nient'altro quindi è questa la cosa importante di tenersi i giusti dadi e le giuste combinazioni doppi, tripli o quadrupli per appunto vedere di utilizzare l'abilità nel caso volesse utilizzare la sua abilità potrebbe movimento, attacco, abilità oppure se fosse già stato corpo a corpo potrebbe fare due attacchi più l'abilità quindi come vedete è veramente molto forte poi nelle altre azioni che si possono fare nel corso del turno di gioco ecco ci sono il disingaggio semplicemente si prende e ci si sposta si va via si disingaggia e non si dà attacchi di fortuna non si dà niente si disingaggia e si va via con l'unica differenza che se c'è un altro nemico magari della stessa fazione mentre disingaggio e non mi dà la possibilità di disingaggiare magari c'è uno qui, uno qui e uno di qua il disingaggio non è possibile perché non avrei modo di sviarmela passando almeno a un'unità imperiale di distanza e dovrei rimanere in corpo a corpo con lui o con un altro quindi se mi hanno circondato il disingaggio non è possibile altra regola vuole che quando due si combattono su un camminatoio su un ponteggio tipo questo e una delle due figure è almeno da mezzo pollice da un baratro quindi ci siamo assolutamente che siamo attaccati al baratro se subisce una ferita critica può essere spostato fino a 5 addirittura 5 pollici in direzione scelta dal vincitore dello scontro e che gli ha fatto la ferita critica quindi se l'arion golem ha fatto al capo degli ultimate beast una ferita critica potrà decidere ok io ti sposto qua giù ti butto giù dalle mura e in più avendolo buttato giù dalle mura se è a 3 unità imperiali prende anche i danni da caduta le bestie per utilizzarle quando arriva il vostro turno perché in questo gioco ci si muove uno te uno io uno te uno io quindi una truppa per ciascuno alternandosi un giocatore può dire ok ci sono queste due creature va bene allora queste due creature che sono qui muovo una di queste creature al posto che muovere una delle mie truppe quindi muovo che ne so questo invece di muovere il mio ultimate beast lo muovo perché voglio arrivare in corpo a corpo al capo degli iron golem si va a prendere la scheda si guarda di quanto si muove e quant'altro però prima di fare questo deve tirare un dado perché con un risultato avrà la possibilità di muoverlo invece fallendo quel tiro di dado sarà il suo avversario a muoverlo ed è secondo me una regola fighissima perché mette quel dubbio sono riuscito a controllare quella bestia e quella bestia mi si è ritorta contro quindi se vince nel tiro glielo muove contro se invece non vince nel tiro è il suo avversario a muoverlo dove decide lui ad attaccare e in più si conta sempre come nel turno del giocatore degli ultimate beast quindi non solo l'iron golem gli ha la muove contro ma nel turno dell'iron golem rifarà il suo turno cioè risiocherà la sua cosa quindi muoverà due truppe muoverà un mostro grazie al tiro sbagliato del suo avversario più una propria truppa ragazzi le regole bene o male sono tutte qui ovviamente ci sarebbe anche qualcosina più raffinato da vedere gli spostamenti vari il disingaggio e quant'altro però vi assicuro le regole del gioco sono tutte quante qui ed è un gioco non veloce di più fatto appunto per fare sconti sul campo di battaglia che possono durare esagerando una quarantina di minuti se la tirate per le lunghe un'oretta comunque ragazzi bene o male le regole di gioco veramente di Warcry sono tutte qui ed è giusto che siano così facili veloci spettacolari e bello da vedersi quindi ragazzi in conclusione Warcry è un gioco fatto e pensato veramente per tutti perché ha delle regole semplicissime però il gioco base come vi ho fatto vedere perché poi la fin fine ha tre modalità il gioco base è quello vero di pescare le carte per vedere con la casualità che tipo di battaglia viene fuori fai uno scontro e finisce lì poi c'è la modalità libera nella modalità libera addirittura potete giocare anche con tre o quattro bande non c'è più la regola soltanto una banda contro un'altra e poi c'è la modalità campagna che la modalità campagna è metà del manuale di gioco ragazzi no forse anche di più più di metà del manuale è la modalità campagna dove ogni banda appunto di warcry ha il suo obiettivo e la sua storia e la sua lore e il suo background appunto personale una strada che deve seguire da un punto A a un punto B da un inizio a un arrivo e compri la propria missione quindi è quello più forse bello consono per giocatori che amano more dime per me sinceramente sono più giocatori che si fa una partita e finisce lì non ci deve essere tanto una modalità campagna una mappa da conquistare e cose del genere ma per chi cerca veramente un nuovo si mi sento di dirlo more dime in ambientazione warhammer age of sigmar secondo me è il gioco perfetto e soprattutto la cosa bella è che come regola è semplice così deve essere fatto un gioco un gioco deve essere letto il regolamento 10 minuti prima di fare la partita deve essere fatto veramente così faccio un complimento disumano a mia moglie e ripeto ragazzi le miniature l'avete viste non ancora dipinte tutto lo scenario è dipinto miniature no perché ci ha messo due settimane non stop tutti i giorni otto ore il giorno di lavoro per finire tutto perché poi non sono soltanto primer e colorati ci sono tutti quanti gli effetti gli shade punti luce i wash cioè c'è un lavoro disumano due settimane ma l'ha colorato tutto e poi perché volevamo intanto non tardare a fare questo video e le miniature saranno argomento di altri video perché anche mentre dipingerà appunto le miniature vi farà vedere qualcosa non tutte ci farà altri video dedicati ringrazio la giocolibreria semola per averci offerto questa copia e ricordo ragazzi andate ad acquistare tutti i giochi della gv ma non solo i giochi della gv cioè i wargame anche i boardgame e i colori della gv quindi tutto quello che riguarda la games workshop e la citadel direttamente dal sito giocolibreria semola primo link in descrizione e in sovrimpressione con cui collaboriamo ormai regolarmente perché al momento dell'acquisto inserendo vedete quando andate ad acquistare un oggetto c'è scritto hai un codice discount cliccate lì scrivete maiuscolo Coridan7 numero tutto attaccato in maiuscolo Coridan7 e vi dà uno sconto del 7% quindi se dovete ordinare delle cose magari andate a spendere 100 120 200 euro usate il codice di un bello sconto non solo non pagherete le spese postali ma magari vi porterete a casa anche qualcosa appunto in più quindi grazie da morire Corrado grazie da morire lo gioco libreria semola e se le devo dare un voto a Warcry assolutamente un 9 su 10 perché la GV è riuscita veramente a fare quello che andava fatto ovvero fare un nuovo gioco competitivo che secondo me attirerà molto anche gli amanti di Mordheim in ambientazione Age of Sigmar con un regolamento facilissimo però non per questo scadente è un regolamento veloce però c'ha tutte le regole fatte bene veramente per divertirsi l'unico 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 punto che mi è piaciuto leggermente meno però va bene almeno velocizzi il gioco è che quando come vi ho fatto vedere nelle regole salta in altezza di 3 pollici io le chiamo unità imperiale comunque 3 pollici o più prendi dei danni da caduta quando scali no almeno che tu non finisca l'azione mentre stai scalando un muro caschi e ti fai comunque danni io avrei fatto un tiro per la scalata perché se no ognuno qui in questo gioco ognuno si può arrampicare però va bene uguale è una piccolezza quindi fatemi sapere cosa ne pensate con un commento e fidatevi se lo dovete acquistare andate sul primo link in descrizione Coridan 7 codice discount ciao ragazzi alla prossima